Venerdì scorso 8 aprile i Vigili del Fuoco di Iglesias hanno svolto un'esercitazione di soccorso e di evacuazione di persone con tecnica SAF nel sito turistico della Grotta di Santa Barbara a San Giovanni Miniera, richiesta della società Iglesias Servizi che per conto del comune di Iglesias gestisce i siti minerali turistici. L'iniziativa di addestramento simulava il soccorso ad una persona durante una visita di circa 20 persone. Una di queste è scivolata all'interno dell'ambiente ipogeo procurandosi un trauma spinale. Avviata la richiesta di soccorso alla sala operativa 115 del comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari e al 118, secondo il piano di emergenza, è intervenuta la squadra 5A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Iglesias con la componente specialistica SAF, Speleo Alpino Fluviale, coinvolta a livello regionale. I specialisti TLC, telecomunicazioni, dei Vigili del Fuoco che hanno consentito l'allestimento di un PCA, posto di comando avanzato, ed il personale medico sanitario del 118 con un'ambulanza medicalizzata. La componente SAF insieme alla componente sanitaria ha curato l'evacuazione del traumatizzato attraverso la via principale d'ingresso utilizzando tecniche Speleo. Gli operatori della squadra 5A insieme ai dipendenti dei servizi si sono occupati dell'evacuazione dei restanti visitatori dall'apposita via di esodo secondo il piano di emergenza. L'intervento si è concluso in circa due ore e mezza. L'esercitazione ha permesso di testare le procedure e i protocolli del piano di emergenza previsti al fine di salvaguardare la sicurezza anche in siti ed aree impervie difficili da raggiungere a causa della conformazione del territorio.